Un saluto cari amici biancorossi, benvenuti al TG di Monza Channel. Partiamo subito con le notizie in primo piano. Il Monza nella prossima sfida di campionato domenica 25 marzo sfiderà il Lumezzane in casa. Non ci sarà Walter Zullo, squalificato per somma di ammunizione, fermato dunque dal giudice sportivo. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Minelli della sezione AIA di Varese, coaudiuvato da Filippo Valeriani di Ravenna e da Michele Pennaccio di Farenza in provincia di Ravenna. Per quanto riguarda la prossima sfida noi abbiamo sentito un grande giocatore del Monza, un perno della squadra allenata da Motta, Paolo Balagussa. Una gara importante per il Monza che rivede la zona salvezza senza passare dei play-off più vicina. Sì, molto importante per noi che per fortuna ci siamo avvicinati alla salvezza diretta e siamo solo due punti dalla Reggiana e tentiamo di fare i tre punti e portarli a casa. I rischi della gara contro l'Umezzana, il mister cosa va detto in particolare di Bresciano, una squadra che sta viaggiando in una media totalmente tranquilla fuori dalle zone pericolose della classifica. Sì, questo è vero, però è una squadra che combatte, che è grintosa su ogni pallone, che comunque è da affrontare nel modo giusto e con molta determinazione. Il mister cosa ha detto in particolare dell'Umezzana e di tenere in considerazione degli avversari? Adesso ci stiamo studiando e di stare attenti soprattutto agli inserimenti e di essere molto determinati noi e poi il risultato arriva. Reggiana affronta in casa l'Avellino, la distanza dalla formazione emiliana non è poi così incolmabile. Quanto crede la squadra di poter uscire dalla zona play-out? La squadra sicuramente ci crede molto, però noi tentiamo di fare i nostri risultati, i nostri tre punti. Poi quello che viene negli altri campi lo guardiamo successivamente, però se arriva una notizia positiva meglio. L'iniziativa della società, quattro partite al prezzo di uno, l'importanza anche di tifosi per queste ultime partite del campionato, quanto possono essere decisivi per voi? Sicuramente sono decisivi i tifosi, però noi tentiamo di fare meglio, di portarli allo stadio e di farli divertire vincendo. E adesso prima di chiudere delle notizie importantissime riguardanti il mondo bianco-rosso, in occasione delle ultime quattro partite casalinghe, Monza-Lumezzane di questa domenica, Monza-Carpi di mercoledì 4 aprile, Monza-Foligno di domenica 15 aprile e Monza-Pisa di domenica 29 aprile, Gli appassionati bianco-rossi potranno acquistare un mini abbonamento che permetterà loro di assistere ai quattro match appena indicati al prezzo di uno. Infatti il prezzo del mini abbonamento è di soli 10 euro per la curva e di 20 euro per la tribuna. Passiamo adesso a ricordare i risultati del settore giovanile. Dobbiamo fare i complimenti ai pulcini del 2002 e del 2003 che al trofeo della Collina ha disputato a Solto. Collina e arriva di Solto in provincia di Bergamo lo scorso 17-18 marzo hanno davvero fatto una grandissima e bella figura. I 2002 allenati da Fabio Sacco hanno superato infatti paretà di Torino, Chievo-Verona, Albinoleffe e Atalanta senza subire alcuna rete. Dunque la porta è rimasta inviolata fermandosi solo nella finalissima disputata contro l'Inter in cui c'è stata la sconfitta per 1-0. I 2003 invece di mister Matteo Lissoni si sono invece classificati al quinto posto togliendosi però la soddisfazione di uscire imbattuti dal confronto con i nero-azzurri che sono stati per l'appunto i vincitori del torneo. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta con il TG di Monza Channel. Grazie e arrivederci!